Vediamo ora l'anteprima della nostra pubblicazione digitale direttamente sul tablet, in questo caso un iPad. Andiamo quindi sull'App Store e cerchiamo l'applicazione gratuita Adobe Content Viewer. Installiamola, inseriamo la password e dopo qualche istante ecco che l'applicazione inizia a installarsi. Siamo ora pronti per vedere l'anteprima del nostro progetto direttamente nel Content Viewer. Prima però dobbiamo accedere allo spazio contenuto sul server acrobat.com per visualizzare la pubblicazione caricata attraverso InDesign CS5 o 5.5. Per farlo tocchiamo il pulsante Accedi e inseriamo il nostro Adobe ID. e tocchiamo il pulsante Accedi. Come vedete il viewer si collega al server e inizia a caricare i magazine pubblicati. Clicchiamo quindi su OK e tra le varie pubblicazioni troviamo ora Discover Magazine. Tocchiamo il pulsante Scarica per effettuare il download direttamente sul nostro tablet. Bene, siamo ora pronti per vedere il nostro magazine. Tocchiamo il pulsante Visualizza e entriamo all'interno del magazine. Tocchiamo e trasciniamo in orizzontale per passare da un articolo all'altro o in verticale per passare da una pagina all'altra dello stesso articolo. Quando incontriamo un oggetto interattivo tocchiamolo per poter accedere al suo contenuto, come in questo caso. In molti casi all'interno degli oggetti interattivi è possibile toccare e trascinare per modificare, ad esempio, in questo caso, la visuale di un'immagine panoramica oppure per passare da una slide all'altra. Tocchiamo sul pulsante di chiusura per uscire dall'oggetto interattivo. Toccando in un'area non interattiva, accediamo all'interfaccia del Viewer. In questo caso, tocchiamo e trasciniamo sullo slider per attivare lo sfogliatore che ci permette di passare da una pagina all'altra con estrema facilità e di vedere la miniatura del contenuto relativo. È inoltre possibile vedere altre informazioni sugli oggetti interattivi o sui metadati o sul titolo e l'autore dell'articolo. Ecco, su questa pagina, un altro oggetto con il quale è possibile interagire. In questo caso abbiamo una sequenza Immagini che simula la possibilità di ruotare un oggetto tridimensionale, come ad esempio lo Space Shuttle. Passiamo ad un'altra pagina, in questo caso senza oggetti interattivi, e tocchiamo in un punto qualsiasi. In questo modo attiviamo l'interfaccia del Viewer e dal pulsante in alto a destra possiamo accedere a un colpo d'occhio su tutti gli articoli contenuti nella pubblicazione. Tocchiamo quindi sulla miniatura dell'articolo che vogliamo visionare per accedervi direttamente. In questo caso abbiamo un video con l'opzione di riproduzione automatica. Tocchiamo sull'oggetto interattivo, quindi sul video, per accedere al player del video e metterlo in pausa o ancora andare nella modalità Full Screen. Chiudiamo e passiamo ad un'altra pagina dove, se ricordate bene, avevamo inserito una risorsa audio. Come abbiamo già ricordato più volte, molti dispositivi tablet dispongono della possibilità di avere orientamenti diversi. In questo caso abbiamo un iPad che dispone di questa funzione. Proviamo quindi a ruotare il dispositivo e come vedete automaticamente viene caricato un altro layout coerente con i contenuti di quello precedente. In questa pagina abbiamo inoltre un altro oggetto interattivo, ovvero uno slideshow che viene riprodotto in modo automatico o che possiamo utilizzare toccando e trascinando per passare da una slide all'altra. Passiamo quindi su un'altra pagina dello stesso articolo dove abbiamo un altro slideshow che però viene utilizzato in maniera diversa dal precedente, ovvero toccando sui pulsanti accediamo direttamente alla slide relativa dove, oltre alla foto, cambia anche il testo. Torniamo sulla copertina e come vedete gli stessi elementi della versione verticale sono ora ridisposti in modo diverso e alternativo in quella orizzontale. Questo è un altro modo di interpretare la possibilità di avere un doppio orientamento, ovvero cambiare la disposizione degli oggetti o addirittura cambiare il contenuto. Bene, come avete notato il flusso di lavoro utilizzato non è molto dissimile da quello che quotidianamente mettiamo in atto per le pubblicazioni cartacee. A parte qualche piccolo accorgimento gli strumenti che usiamo in InDesign sono sostanzialmente gli stessi. La vera sfida è quella di riuscire ad integrare gli strumenti che già utilizziamo in InDesign con i contenuti per i nuovi media. Contenuti che sono sicuramente più ricchi e diversi rispetto a quelli per la carta, ma di sicuro più coinvolgenti. Ecco che abbiamo visto in questo videocorso un'introduzione alla Digital Publishing Suite che ci aiuterà ad affrontare la sfida della nuova rivoluzione del Digital Publishing. Grazie a tutti.